Per Full Art Immersion Maddalena Ruggeri, la passione, il sentimento, la primavera che ha dentro perché ci tiene a raccontare che è nata in primavera questa artista. Il colore, la spatola, un modo di lavorare l'astratto e le donne, questi colori intensi, questi volumi realizzati sulla tela a forte macchie di colore, un modo di lavorare che diverte l'artista probabilmente nel realizzare le opere, che diverte lo spettatore, il fruttore delle sue opere nel vedere qualcosa di caldo, nel vedere qualcosa di allegro, nel vedere però qualcosa che nello stesso tempo denota una profondità, denota un segno interiore che in ogni caso l'artista vuole trasmettere nel suo modo di lavorare. Maddalena Ruggeri, quest'artista che autodidatta, che fin dall'infanzia ha un approccio vivo, vitale con la creatività e che cerca appunto nel suo modo di lavorare e riesce sicuramente in questo intento di trasmetterlo nello spettatore. Ed è tutto veramente un modo interiore che riesce in modo assolutamente efficace a trasmettere sulla tela Maddalena Ruggeri quello che arriva a chi è capace di vedere nelle sue opere questo fluido che lei dalla sua anima, dal suo io, dal suo essere interiore riesce a trasmettere nelle tele. Per Full Art Immersion abbiamo parlato di Maddalena Ruggeri.